Allenamenti via Skype per il Pescara, sospesi a data da destinarsi per il Frosinone. La Sanitana ha ripreso oggi al Merirosi seguendo un protocollo rigoroso. Calciatori divisi in gruppo per ridurre al minimo ogni possibile rischio. La buona notizia è che la Miglialov non dovrà partire per rispondere alla chiamata del Gambia dal momento che sono state rinviate le gare per la qualificazione ai prossimi mondiali della zona africana. La Sanitana si è anche attivata per una raccolta fondi per l'ospedale di Ruggi dopo aver lanciato sui social un messaggio forte e chiaro. Tutti devono restare a casa per il bene di ognuno e per consentire la ripresa delle attività in un futuro non tanto lontano. Il club Granata sta decidendo in queste ore se e come continuare gli allenamenti. L'incertezza sul possibile ritorno in campo ha indotto alcuni club a sospendere la preparazione in gruppo dei propri tesserati e la stessa Sanitana ha già sospeso per alcuni giorni il programma di allenamenti concedendo alcuni giorni di riposo ai suoi calciatori. Questa mattina la squadra è tornata, sebbene a scaglioni, agli ordini lo staff tecnico con tutte le precauzioni e le cotele del caso, anche se la regola ora resta una, limitare i contatti e gli assembramenti. Diversi casi di coronavirus hanno interessato il calcio italiano ed ora più che mai anche tra gli atleti è importantissimo ridurre il rischio di contagi, eventualità che farebbe scattare la quarantena e l'isolamento in blocco, come sta accadendo alla Sampdoria, ma anche alla Fiorentina, alla Juventus, all'Inter e all'Udinese.